ciao a tutti e benvenuti la quinta e penultima puntata della nostra miniserie un po vintage dedicata agli apparati xdsl e idislam è dedicata anche stavolta a un apparato di un marchio molto famoso siemens in particolar modo oggi si parla di un siemens surpas ho deciso di pubblicare questa miniserie di video nonostante mi vergogni parecchio di vedere mie immagini di qualche anno fa per permettere anche a chi non è addetto ai lavori di vedere un po tutto quello che c'è dietro il funzionamento di quelle misteriose macchine nascoste all'interno delle centrali degli operatori che permettono il funzionamento del traffico dei dati spero che anche questo video possa essere un intrattenimento interessante fatemi sapere cosa ne pensate buona visione il dslam siemens surpas hx 5635 è costituito da un subtelaio a 17 slot numerati da 201 a 217 i telai in tecnica n3 della sala trasmissioni possono essere equipaggiati con un massimo di due subtelai ad ogni dslam siemens surpas possono essere attestati fino a 1080 clienti adsl 2 plus o 720 utenze shdsl o vdsl 2 vediamo nel dettaglio i quattro moduli che compongono questo dslam le schede utente occupano gli slot da 201 a 208 e da 211 a 217 possono essere di diverso tipo combinate tra loro a seconda delle esigenze il servizio adsl 2 plus è fornito da schede iu adsl 48 e iu adsl 72 rispettivamente a 48 e 72 porte il servizio vdsl è erogato da schede iu vdsl 48 a 48 porte il servizio shdsl è offerto da schede iu shdsl 48 a 48 porte un cavo di tipo te raccorda con un apposito connettore le porte delle schede al relativo blocchetto del premutatore urbano ogni scheda presenta tre led power run e error power e run con luce verde fissa indicano che la scheda funziona normalmente l'accensione del led rosso error segnala un malfunzionamento sui mux siemens surpas hx 5635 i moduli dell'apparato che svolgono la funzione di controllo matrice di connessione ed interfacciamento alla rete di trasporto sono svolti da una unica scheda duplicata negli slot 209 e 210 questa scheda si chiama cx ub e funziona in modalità ridondata attiva e riserva questo permette la possibilità di effettuare lo scambio sia in automatico che in manuale nella parte centrale della scheda sono presenti 8 porte suddivise tra gigabit ethernet ottiche ed elettriche utilizzate per il collegamento dell'apparato alla rete di trasporto o ad altri dislam il segnale ottico presente su entrambe le schede cx ub è preventivamente duplicato da un diramatore posto in testa al telaio ad ogni porta gbe corrisponde una coppia di led act e link il led verde link indica la presenza della connessione gbe attiva act ne evidenzia lo scambio dati sulla cx ub i led power e run con luce verde fissa indicano che la scheda è funzionante in stato attivo se run è lampeggiante la scheda è in stato di stand by l'accensione del led rosso error segnala un malfunzionamento i led critical major e minor ne specificano la gravità in ordine decrescente critico grande e piccolo allarme la gestione dell'apparato in locale si effettua collegandosi con il pc a uno dei primi due ingressi rj45 cons di tipo seriale a 38.400 bit al secondo oppure link a ct di tipo internet la parte superiore del cestello ospita la piastra cf common interface field questa scheda presenta sul frontale due connettori di tipo 3v3 per l'attestazione alla distribuzione di alimentazione inoltre sono riportati i punti di input output degli allarmi nella parte inferiore del telaio è presente l'unità di aereazione fund ray